Scevro da preconcetti in medicina, da vero scienziato, curioso come uno scienziato di conoscere perché i nostri incontri hanno avuto questa modalità. Saluto, perché l'ho saputo prima, gli infermieri che rappresentano e che rappresenteranno il vero interlocutore, più della malattia del malato, negli ospedali loro vengono chiamati a cudire il malato e a sentire anche quelle che sono le difficoltà proprie della persona umana nel suo stato di malattia. Il medico lo vede meno il malato, lo vede la mattina, il pomeriggio, si fa dare le analisi, voi siete quelli che starete vicino al malato, il quale suonerà, tutti i divini malati in malattie anche quelle degenerative, malattie anche oncologiche e siete voi l'alter ego del malato. Sto seguendo un amico in oncologia e ho visto la dedizione dei giovani infermieri, questi preparati all'università che ogni momento come va, il sorriso, il medico alle volte, non lo so se per paura della malattia, si defila e è difficilissimo trovarlo. Io ho provato a cercare il medico per parlare del caro amico che sta molto male, ho trovato tanti infermieri e tanti consigli e ho saputo anche da loro la terapia che stavo in qualche maniera ricevendo. Vedo tra il pubblico una personalità internazionale della medicina e voglio citarlo, il presidente Giampaolo Donzelli della fondazione Meyer di Firenze, direi una persona che sta studiando le nuove frontiere della medicina, se così mi consente di dirlo, io l'ho seguita, a parte l'ho seguita proprio di Visu da noi e poi all'ordine dei medici e poi ho sentito, ho letto e ho sentito le sue interviste. Bene, e iniziamo con la nostra, funziona sì? Ok, va bene. E iniziamo col soggetto, col tema della nostra chiacchierata di oggi. No, 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 assolutamente, non sentite che la mia voce è già ricorporata. E poi siccome noi che state registrando, può passare? Ecco il tema della nostra giornata. Se noi non guardiamo solo Gian Battista della Porta, ma guardiamo la storia della medicina in generale, cogliendone il senso, non rideremo più di ciò che faceva Gian Battista della Porta. Il grande Antonio Miotto, che è stato uno dei saggisti che ha descritto Gian Battista della Porta, vedremo che lo metterà nella sua galleria dei medici strani. Se cercate, se Gian Battista della Porta abbia frequentato l'università di medicina, non lo troviamo. Anche nella didascalia, diciamo, dell'intervento di questo congresso, noi diciamo, non è stato un medico, si dice, però è acquisito come medico. Lo troviamo in galleria dei medici strani insieme a Mesmer. Se noi osserviamo quella che è stata, è stato il momento storico, rinascimentale, in cui c'è stato Gian Battista della Porta, che è stata una personalità eclettica, come un vero scienziato. Guardate che i medici oggi sono dei tecnici. Una volta il medico, per essere tale, doveva essere scienziato. Perché? Perché l'uomo veniva preso a tutto tondo, come giustamente ci ha riferito il nostro Presidente prima, su tutti i piani, da quello spirituale a quello relazionale, dell'ambiente, astrologico. E quindi il medico doveva avere la capacità di osservare il malato, come dall'altra parte fece Ippocrate, che è una pietra miliare della medicina, complessivamente, come persona umana. Qual è la differenza tra la malattia e la persona? C'è una grandissima differenza. La malattia è soltanto un'alterazione, la possiamo oggi quantificare perché con la diagnostica possiamo arrivare a dire qual è la malattia, individuarla, quantizzarla e scegliere di conseguenza, secondo le linee guida attuali, una terapia. La persona umana è tutto, è il soggetto. La filosofia ci insegna che la scienza può osservare e operare sull'oggetto, lo può quantificare, ma quando si arriva al soggetto, diceva Gerardo Merotta, dice noi possiamo utilizzare la scienza, i medici, perché la medicina è una branca umanistica che si serve della scienza, ma caso per caso. Possiamo passare dopo. In questo periodo noi troviamo altri medici interessantissimi, molto simili alle dinamiche mentali della porta, come Agrippa, Nostradamus, Paracelso, Mesmer, Cardano, tutti medici strani. Successivamente troveremo proprio il padre della medicina neopatica, Aneman, che è messa sempre in questa collana di medici strani. Cagliostro. Se noi andiamo a vedere quale sono le aspirazioni dei medici di sempre, un'aspirazione è un atto medico, è un atto etico. Qual è l'aspirazione del medico? È quella di curare e possibilmente guarire i malati. E questa è l'aspirazione di tutti i medici. Ma qual è stata la differenza operativa? Il piano filosofico e concettuale. Cioè l'immagine che io ho della persona umana nello suo stato di malattia crea di conseguenza l'intervento è modulato su quel piano. Tutto quello che noi troviamo nella storia della medicina, nei vari paradigmi e metodi utilizzati, è in qualche maniera conseguenza al punto di vista. se noi guardiamo ancora il punto di vista oggi, e so che il professor Donzeni su questo, prendiamo la prefazione della materia medica del Teodoni. Cosa dice? Attenzione! Noi quando facciamo un'indagine e una diagnosi, la facciamo rispetto alla nosografia. che cos'è la nosografia? E un riconoscere attraverso il nostro simpatico relatore di ieri, non ricordo il nome, ha parlato bene di semiotica. Attraverso i segni che io trovo nel paziente, che riconosco nel paziente. Perché riconosco? Che cos'è la nosografia? Perché la malattia oggi è definita. Prima noi, prima c'era il malato. La malattia è definita. Ma quando io definisco una malattia, mi troverò di fronte anche a tanti malati della stessa malattia. Saranno tutte persone simili? Assolutamente no. E questo Teodori, grande professore di semiotica e patologia medica, ci mette in guardia su questo. Attenzione! Noi facciamo la diagnosi malattia, ma ci troviamo di fronte a un malato. Un malato che si caratterizza come persona umana. E la stessa malattia può avere, in un caso può essere il risultato di influenza della mente sul corpo o viceversa del corpo, sulla mente. E questo è molto interessante. Quella cosa meno interessante è come sfuggire poi dalla ristrettezza di una diagnosi nosografica in tema di terapeutica. Perché alla fine questi pazienti avranno una terapia simile. E su questo poi alla fine ci sarà una piccola sorpresa per chi non lo sa, perché c'è una grande apertura del presidente Ricciardo di due settimane fa alla medicina olistica. Attenzione, dice, siccome le malattie stanno aumentando moltissimo, soprattutto dell'anziano, a proposito di quantità, numero di anni di vita, non solo quantità, ma anche morbidità. La morbidità sta a dire che le persone possono vivere tanti anni, ma è uno stato di incapacità rispetto alle sue libertà. Per libertà intendiamo io devo mangiare, non devo sentire la digestione, devo poter camminare, devo poter pensare, decidere, progettare. Se manca di tutto questo è soltanto fisiologia del corpo. L'attacco a una macchina o dei farmaci e va davanti. Il presidente Ricciardi dice da ora in poi noi, siccome spendiamo di più negli ospedali la sanità, in quanto le malattie degenerative, soprattutto dell'anziano, la demenza sta aumentando moltissimo, noi dobbiamo ricorrere a una medicina olistica che veda la persona su vari piani, secondo le scienze umane. Grazie. Ma se noi andiamo, non voglio prendere tanto la larga e poi controllo i tempi, ma se noi andiamo ai ricordi iniziali della medicina, a questo Dio medico tutto esculatio, l'atteggiamento dell'uomo verso l'alto uomo, l'atteggiamento etico di cura, qual era? Era un atteggiamento di tipo globale. Cioè io prendevo la persona, nella sua parte animica, nella sua parte fisica, nella sua superstizione e così via, e le prime cure non erano fatte sulla nosografia, ma si raccoglievano tutti quanti i sintomi e si agiva su questo. Cioè all'inizio, prima della logica alistotelica introdotta in medicina, cosa si faceva? Si prendevano i malati e caso per caso si curavano. Era difficile fare questo perché ogni volta io dovevo interpretare un esperimento. Poi invece io ho raccolto di tutte le mie esperienze soltanto ciò che era ripetibile, ovvero i sintomi comuni, quelli della malattia e non i sintomi individuali, quelli del malatto. Ma all'epoca era tutto insieme. Andiamo avanti. Guardate un pochino in questi tempi, questa era la ricostruzione, no? Che cosa veniva dato per le cure? Si usavano sostanze vegetali ed eravamo sul piano farmacologico. Attenzione, Gianna, però tutte quelle cose di Yoshamus, Belladonna, Aconide eccetera, in dosi piccolissime, perché le dosi piccolissime stimolano l'organismo, se superiamo la dose, annullano e addirittura possono essere tossiche e uccidere. Vedete? Uso di sostanze di sostanze vegetali, animali o minerali, succhi, bagni, famosa fonte Castalia purificatrice, canti, musicoterapia, massaggi, digiuni, bevande sopurifere e riti religiosi. Dopo aver fatto una cosa del genere, il malato cadeva in quella che all'epoca si chiamava l'incubazione del sonno, c'è uno stato e si racconta che il giorno dopo spesso era completamente guarito e nei tempi si gridava al miracolo. Ippocrate era uno di questi medici dei tempi. Possiamo avanti? ancora avanti, questa è l'incubazione del sonno. E quando dico, è importante questo aspetto concettuale in medicina anche per la terapeutica. Noi facciamo il nostro giuramento dedicato a Ippocrate, a quello che lui aveva dato come obbligazioni del medico. Però la visione dell'ammalato è una visione, attenzione, vitalistica. Perché all'epoca non c'era la teoria cellulare, non si conosceva la cellula, gli organi eccetera, l'anatomia, non se ne parlava. E quindi l'osservazione portava a una visione vitalistica, ovvero a una autonomia, quella che noi chiamiamo omeostasi, alla capacità dell'organismo di recuperare la salute. Vedete che cosa diceva? Il primo comandamento dell'ammalato è di non vocere all'ammalato. Da questo comandamento deve dire il secondo, non combattere l'opera della natura. Significa che se io, in qualche maniera lo vedremo, lo dirà Sidenham, 1600, dirà attenzione, guardate, che era l'ippocrate inglese dell'euro, attenzione guardate che se io do dei farmaci blocco quella che può essere la reazione dell'organismo. Allora, in questa modalità concettuale di malattia è chiaro che se io debbo recuperare ciò che era perso, il rimedio, direbbe l'amico Negro, significa rimediare, rimettere in media. Che cosa bisogna rimettere in media? L'incapacità dell'organismo di mantenere il proprio equilibrio. Dove sta questo farmaco? Che mantiene? No, il farmaco agisce sul sintomo. E come agisce sul sintomo? Alle volte in maniera derivativa, all'epoca, poi vedremo se c'è il tempo, parliamo, i metodi erano quello derivativo. Quando si parlava dei farmaci, erbe, cete, estratte, era il meno derivativo. Cioè, voglio somigliare alla natura e ti do il diaforetico per sudare, ti do, come si chiama, il cardiotonico, ti do questo e quest'altro, ti do il lassativo, c'era anche, si facevano i salassi per rimettere, c'erano alcune erbe come scilla, che è una liniancia che attivava il flusso mestruale, no? Perché molte di queste streghe erano, saliva la pressione, e poi lo vedremo proprio in della porta. Ma quando io dico che il potere di guarigione dell'organismo sta nell'organismo, devo sollecitare a quel punto l'organismo. E come lo devo sollecitare? Casualmente? No. Sicuramente con quid che l'organismo stesso riconosca, al quale quindi è sensibile, quindi lo devo scegliere bene, e recupera da solo la salute. E questo quid non è più un farmaco, ma è qualcosa, ecco perché poi si parla di spagilica e di altro. Cioè, si parte dal concetto, e lo vedremo in Ippocrate, specialmente quando lui parla nel trattato delle epidemie, si vede che lui comprende che la natura umana è il risultato di tanti tipi di influenze su più piani. Tant'è vero che descrive che alcune epidemie potevano avvenire sullo stesso posto, se tu ti spostavi non succedeva niente. E come curare? Come curare nell'epidemia? Tu l'hai citato. Io curo con l'eleboro bianco, il colera, perché dice Ippocrate, pur esso eccita del sano, se uno sa velena, sintomi simili al colera. Ma allora questo è un farmaco, distruggeva i batteri, distruggeva i librioni, assolutamente no. Stimolava l'organismo artificialmente su un piano simile a quello della sua malattia. Tant'è vero che lui usava sia il principio di similitudine che quello dei contrari, diceva che si devono usare con parsimonia comunque. Vengono dati i farmaci con parsimonia. Il telecomando probabilmente non è suo anno, ciò non va a fare più. Ok, quindi tutto l'aspetto alchemico non è una cosa che si è persa perché, no perché oggi con una medicina tra virgolette scientifica, basata sulla chimica, per forza di essere basata sulla chimica, non su altre cose. Perché io, per riattivare un organo o per togliere dei sintomi, devo avere dei siti e poi devo saperli conoscere, devo sapere usare i farmaci. Là no, eravamo su quel concetto della unità del cosmo e che in natura, quello che poi disse Hahnemann, sicuramente io posso trovare l'analogo. Tanto è vero che nella preparazione omeopatica, che è un pochino, è una preparazione che cosa fa lui? Prende sostanze, contrariamente a quello che pensate, non sono diluite e basta. Prima di tutto le prende secondo il principio di similitudine. Guardate, qui ci stanno degli esempi di guarigione delle statistiche dell'angolo, perché il nostro presidente ha fatto un angolo della medicina omeopatica, dove ci sono delle statistiche di guarigione del colera, dove si moriva al 50% con la medicina omeopatica soltanto il 3-4% in qualche caso. Rocco Rubini curava tutti quanti i suoi malati, ma come li curava? Con delle dilizioni ultramolecolari? Assolutamente no. La canfora Rubini era una soluzione satura fatta a metà di canfora e a metà di alcol puro, quindi gli dava della sostanza. Però perché agiva? Non agiva ammazzando il biondo del colera, ma agiva perché se io assumevo questa canfora Rubini mi provocava sintomi simili all'inizio del colera. Che significa? Quei sintomi del colera iniziale, infatti se io non lo prendevo all'inizio il paziente poi poteva morire. Oppure dovevo scegli un altro rimedio che somigliasse ai sintomi successivi. Quando io arrivo a Dioscoride, noi parliamo di materia medica di Dioscoride, che succede con Dioscoride? Succede che Dioscoride comincia a selezionare i farmaci veri e propri e perde quella che è in qualche maniera la visione ipocratica, in che senza, anche se Dioscoride è ipocratico, Calerno è ipocratico, sono tutti ipocratici, non è vero. Perché la perde? Perché lui comincia già a parlare di malattia circoscritta, di diagnosi. Tanto è vero che lui scrive questi cinque volumi di De Materia Medica dove, vedete? Parla di spezzi unguente oli, materia animale, varie specie di ortaggi, erbe, radici, infine di nemmari e minerali. L'unica cosa di particolare mette questa distillazione e dice io con la distillazione imito la funzione del sole. però è l'unica cosa. Per il resto tutti questi farmaci che lui descrive e chiamiamoli farmaci hanno un rapporto più univoco con la malattia che vanno a curare. Quindi è una materia medica che potremmo in qualche maniera assimilare alle nostre materie mediche. da una parte c'è la malattia e dall'altra parte il farmaco. Chi ricordiamo anche come grande medico, attenzione ragazzi, io sto facendo questa carrellata con una finalità, non per farvi tanti vedere pezzi staccati, per farvi vedere il pensiero in medicina e la corrispondenza rispetto al pensiero del tipo di terapia. Perché altrimenti a noi, alla luce delle nostre conoscenze, alcune cose ci sembrano assurde. Ma come questi facevano questi? Gli facevano le fricazze, i massaggi, gli facevano i bagni, i canti, eccetera. Ma tutto questo dipendeva dal momento culturale, come ci ha detto anche il professore, soprattutto l'aspetto religioso che ha pregnato moltissimo il passato. Oggi noi siamo molto più laici, anche perché siamo in una cultura positivistica, quindi è una cultura completamente laica. In passato invece ciò che dominava Esculapio era considerato un dio, cioè era un atteggiamento completamente differente. Galeno in tutto questo cosa c'entra? Galeno è stato un grande anatomista. Galeno avrebbe permesso di fare le prime dissezioni. In passato era rietato, si facevano nascosti sugli animali e eccetera. E quello che è molto caratteristico in Galeno, come grande medico, è la conoscenza dei fasci nervosi. Tanto è vero che lui è stato, ci sono nei libri di Galeno, tantissime guarigioni su questo piano nei traumatismi dei militari a Roma. Perché lui conosceva perfettamente le terminazioni nervose e quindi riusciva a recuperare malati che avevano ricevuto traumi in eccetera nel ruolo di lui. Vedete queste sono delle fasciature, queste sono... Ero un collega tu in pratica Galeno, vedi queste sono delle fasciature del mio. e andiamo alla medicina della notte medievale che è molto simile a voi. Perché? Perché è una medicina basata sugli infermieri, sui monaci, i quali avevano una grandissima conoscenza. Vedete? Ad opera di Benedetto di Norcia, chi conosce il monastero di Monte Cassino? Nessuno conosce il monastero di Monte Cassino? Prima della distruzione degli americani o dopo? Dopo non può essere. Dopo non può essere ma adesso si può visitare. Vedete le prime infermerie noi sappiamo che le preparazioni dei monaci hanno, sono molto caratteristiche, che hanno in sé molti non segreti. Ma noi potremmo ritornare in qualche maniera al loro tipo di terapia che in qualche maniera, attenzione, erano delle terapie che dovevano somigliare all'opera della natura. Quindi quando uno aveva una certa sintomologia loro davano, come abbiamo detto prima, una certa infuso o altra sostanza di solido vegetale, vedete loro coltivavano piante, foglie e radici, i monaci infirmari, da cui l'infermiere, no? Infirmari, e sostituendo la natura nelle sue attività, ma tutto questo è ben lontano dalla concezione di malato ipocratico. perché nessuno coglie e prende insieme il malato. La medicina diventa laica, tu l'hai spesso citata, no? Con il regime sanità salerno e talo e così via. L'influenza dei medici arebi nel medioevo fu importantissima, con Avicenna. Avicenna si dice che addirittura curasse con lo sguardo. In qualche maniera, vedete, viene in generale l'abilità di curare senza medicina e con la psicoterapia. E lui spiritualmente era un grande devoto. Vedete sotto? Ci sarà un passaggio della sua preghiera. Tenete presente che qualche medico ha riferito che alle volte, Mesmer, la forza della parola pura, di una persona pura, poteva avere un effetto terapeutico. Illumino, Signore, il mio intelletto, affinché veda giustamente le cose presenti e il rischio. Esattamente quello assente e nascosto. Vabbè, qui poi entrano le pietre preziose. Come possiamo considerare, lo chiedo anche a voi, la terapia effettuata con le pietre preziose? Qual è il piano? Farmacologico, no? Posso dire vibratorio? Energetico. Prego? Energetico. Quindi vibratorio. E loro, per poterlo fare agire, o l'applicavano direttamente sulla parte malata, o sulla parte del corpo, o addirittura la mettevano in acqua, la esponevano al sole. Quale sole? Al tramonto, all'alba, in modo che si impregnasse maggiormente l'acqua dell'energia del minerale e per conservare questo, non lo so come chiamarlo, ci aggiungevano dell'alcol in modo che lo stavano. Ah, l'alcol? Eh? Ah, l'alcol? su Medicorum Prandia prima. Cioè, la mattina veniva il medico, odorava, sentiva, perché riusciva a fare diagnosi di malattia, di alterazione, attraverso le osservazioni dei liquidi organici. Ah, questo è molto interessante. Guardate un pochino dal punto di vista terapeutico, dal punto di vista igienico, quello che indicava il medico al malato, o come prevenzione per non ammalarsi. Vedete il movimento, il riposo, l'esercizio, l'imitazione, la caccia, eccetera, eccetera, tutte queste attività che potevano mantenere l'equilibrio dell'organismo. E questo è il libro di Biotto, uno della colana, che io per caso mi trovo a casa, perché mio suocero che era chirurgo, un colloco, gli avevano dato tutti questi libri qui, è della vista, sono del 50. E quello che è interessante è che quando arriviamo nel Rinascimento comincia a emergere, che cosa? la medicina razionale. Oggi la medicina, anche se apparentemente non lo sapete, è matematica, è un modello matematico di riferimento. Guardate, io per fare diagnosi ho bisogno delle analisi, ho bisogno delle diagnostiche. Poi fatta la diagnosi, però in qualche maniera è ristretta alla patologia, poi devo scegliere la terapia. Quale sarà la terapia? Quella che le linee guida di quel momento storico mi indicano. Ma i medici del Rinascimento avevano una cultura anche orientale. Nonostante non utilizzassero tutti dei rimedi che in qualche maniera incitassero la forza vitale per rimetterla in media, ma in definitiva comprendevano l'organismo come faceva della porta e lo vedremo su vari piani. Abbiamo detto di Furno, vado veloce da Agrippa, vedete di Agrippa qua c'è l'oppuntismo e i segni caparistici. Questo è interessantissimo. La mano, rispetto alle indicazioni astrologiche, il nostro della porta, quando ne con l'astrologia, perché io lo indico l'amico cardinale Grigideste, non trattare questo argomento perché stanno pensando già di metterti sotto inquisizione, che la cosa se lo preoccupò molto, ma lui in qualche maniera lo verrà. Paracenzo lo conoscete tutti, Paracenzo camminava sempre con la spada perché era un litigioso e diceva io, la natura, si rifà un pochino a quello che aveva detto Ippocrite, è fatta da forze sottili, equilibrio, collegate col cosmo, ecco la spaginica. Io in natura devo trovare l'analogia per poter riattivare le funzioni perdute. E dice, in latino, con minus esti o magis virtutis medicina, meno di corpo c'è, più di virtù medicinale. E soltanto di Ippocrite vi voglio leggere quello che fu il suo testamento per spaventare i medici teorici, e dice, farò ancora di più contro di voi dopo che sarò morto, tant'è vero che Paracenzo vi ricorderete anche dopo morto, vi combatterà anche quando non ha più corpo. La sua visione universale, il corpo era un momento, no? Dice, io vi combatterò perché ne sapete meno del mio cappello, così disse in verità, ai medici teorici. Questo era, in qualche maniera, il clima. Quando io dico, anzi questo lo dice Miotto, medico, psichiatra, astrologo, magico, fisico, chimico, illusionista, dice, va bene, e allora questo qua è una persona non credibile. E ritorniamo al fatto che il medico è essenzialmente scienziato. Più conosco, più io so interpretare. Il caso è fecondo nelle menti preparate, io se vedo una cosa che non l'ho mai visto o non mi... L'olistica significa questo, è quella di ipocrite. Se io vedo una cosa, siccome nulla è causa di se stesso, questa cosa deve avere una causa. Da cosa viene? Che cosa va a smuovere? Quindi quella cosa, devo dire da dove proviene, è quello che va a smuovere insieme con il tutto. E questa era, in definitiva, l'esercitazione di vita del nostro Giambattista della Porta. Vi ricordate a scuola quando noi facciamo le divisioni dei polinomi? Come si chiamava quella? Regola di Ruffini. La regola di Ruffini. Ma scusate, Ruffini secondo voi è matematico, perché noi ci scervellamo questa regola di Ruffini, mi sembri in terzo superiore. Era difficilissima. Chi era Ruffini, Paolo Ruffini? Era un medico, cartografo, astrologo, stato anche militare. Cioè il medico ogni volta era uno che aveva una cultura a 360 gradi. E grazie alla sua curiosità di della Porta noi abbiamo una cultura enorme a 360 gradi. Lui affermava, io non posso credere che l'esperimento possa dimostrare tutto. Perché, abbiamo detto, l'uomo essendo soggetto e quindi non oggetto, come fa l'esperimento? Hai qualche mera a interpretarlo matematicamente. Tenete sempre presente che quando si parla dei quattro pilastri della fisica entro i quali deve rientrare tutto, quello che esce fuori è un fenomeno che non è previsto, non esiste. Questo chi l'ha in qualche maniera messo a punto i quattro pilastri della fisica? L'uomo. E quindi ciò che io metto, stabilisco teoricamente, è sempre inferiore alla mia persona. Altrimenti sarei in grado, in qualche maniera, di ottenere tutto, cosa che invece non è possibile. E di volta in volta vedete che la fisica, la fisica galileana quando è venuto a instante è completamente stata ribaltata. Cioè non ribaltata, vale per piccoli sistemi e non per i grandi sistemi. Vedete, lui è stato anche illusionista, ha fatto pure una camera, un proiettore, no? E quale lui mostrava queste immagini. Lui era tormentato da questa curiosità. Incontrava, pagava di tasca sua, oppure lui viaggiava e voleva incontrare soltanto delle persone che gli dicevano qualcosa di strano. Ma perché secondo voi? Perché voleva andare a comprendere bene il dinamismo del mondo in generale. Voglio leggere soltanto questo titolo passaggio. Visto, visitai biblioteche, uomini, dotti e artigiani, da tutti chiedendo informazioni se nulla di nuovo o di curioso avessero per avventura scoperto. Quelli che non potei avvicinare sollecitai con frequenti lettere, non tralasciando né preghiere né doni né indussia alcuna. E questo è il nostro ricercatore. Io adesso, siccome molte cose sono state già dette egregiamente anche ieri, no? Abbiamo parlato anche delle cose delle streghe, qui è tutto. Questo è lo specchio storio. Il cardinale d'Este, chissà per quale finalità, e anche Rodolfo d'Asburgo, sollecitavano continuamente, andavano a trovare per ottenere questa famosa pietra filosofale, no? Chissà con quali obiettivi. Guardate queste osservazioni lì della porta, che fanno vedere un mondo unitario. Cosa scrive? Dice, io osservai che in natura le cose si accettano, si rifiutano. Poi, oramai, le scienze naturali vanno spiegate, un certo terreno trovate soltanto, un certo tipo di terreno trovate delle piante, e delle piante che tra di loro sono in qualche maniera, stabiliscono un contatto fisiologico, di scambio. Quella fotografia lì, così per curiosità, io sono micologo, l'ho fatta io quella della manita muscaria, no? Sta sempre vicino al cardo, l'ho fatta 1500 metri. Poi trovate un cardo da lontano, facilmente c'è la manita muscaria. Questo dice che le cose non sono messe a caso nell'universo, ma si scelgono. Vedete qui i numeri con proiettatura, i minerali, eccetera. Vado avanti e invece, dal punto di vista medico, può essere interessante l'aspetto costituzionalistico che già in qualche maniera ieri aveva fatto vedere il professore che ha parlato. Sempre qui ci sta un animale, si chiama Icneomone, e dice lui, guardate, vedete, vedete presente che questa fu commentata con grande entusiasmo da Kant, la visione Icneomone della porta, e fa vedere come, diceva il mio professore di scienze, che era il famoso Azan, Lambertini, testa e Azan, il libro di anatomia, diceva che la visione era l'immagine plastica della funzione, come dall'altra parte. Vedete, lo sguardo di questo animale cattivo, con la pupilla piccola, indica proprio, ti dà paura, in qualche maniera. Io ho provato a fotografare, prendete dai due occhi, uno in miosi e uno in midriasi con la pupilla larga, e vedete la differenza, è molto più accattivante la pupilla larga, e le donne nel Rinascimento mettevano la trova bella donna per sembrare più belle, più accattivanti e più buone. Chi usò questa tecnica della fisiognomica? Addirittura Walt Disney, se voi vedete i personaggi di Walt Disney, quello cattivo, la strega, ha la pupilla in miosi, no? Quando noi vediamo invece la pupilla larga, aperta, in qualche maniera abbiamo un contatto più facilitato, non parlo adesso dei nasi e così via. Questa è la famosa... Allora, io poi finisco, voglio far vedere come della porta approccia il malato. interessantissimo. Questi sono i duemila segreti medici, vabbè, questo è il costituzionalismo, ieri l'abbiamo visto, no? Quello lei che poi ritroviamo nel Pende, in Nicola Pende, vediamo il mesoplastico, previlineo che è più forte dell'ectoplastico, anche psicologicamente, l'ectoplastico è il languido debole, tutti gli ectoplastici sono deboli, timidi, infelici. C'è qualcuno alto, magro? No. Ma non è vero che è così perché Nicola Pende aggiunge esiste l'ectoplastico, questo atrabiliare stanco, ma esiste anche l'ectoplastico in perfetto equilibrio. Quindi esiste quello astenico e quello stenico, quindi non necessariamente lui aver conosciuto tutti gli ectoplastici astenici. vedete anche la posizione del feto nella donna in gravidanza, lui parla che si posiziona in una certa maniera, sei maschio, ma questo è nella cultura, questa è la famosa foto del malinconico. E allora quello che è interessante è che quando lui parla di una patologia, questa mi ha colpito molto come medico in Della Porta, quando lui parla di una patologia, poi non risulta un'unica terapia, ma risultano vari tipi di interventi a secondo di quello che è stato il motivo della terapia. Prima di tutto quale sono i malinconici? Qual è il motivo della malinconia? Vedete? Le troppe vigilie, privazioni di sonno, pensieri, solitudini, problemi affettivi, fatti igienici, cibi cattivi, oppure per amenorrea, cioè blocco delle mestruazioni nelle donne o del flusso emorroidario. Oggi il chirurgo dice, ah ma questi emorodi sono di primo, secondo e terzo grado, dal secondo in poi si tolgono. I emorodi sono una malattia del cervello. Ok, allora io non posso togliere la sua, diciamo in qualche maniera, la sua valvola, no? Ci fu, io ricordo, una denunzia a un chirurgo, attraverso un avvocato famoso, di un chirurgo perché dopo che aveva in qualche maniera escisso queste emorroidi, subito dopo venne la cirrosi al paziente e lui prese proprio un libro di medicina di quella costituzionalista e venne proprio a chiedere, mi ha detto, ma è vero questo? E io gli risposi, lei non può intentare una causa perché mentre una volta queste cose si conoscevano, quindi il chirurgo aveva studiato un solo libro di patologia medica, non di paleotirurgia chirurgica, oggi il libro di patologia chirurgica è scomposto in tantissime, specialistica e quindi non c'è più correlazionismo. Dico, lei non lo può fare perché non c'è stato dolo in quanto non era cattiva fede, perché lui mi ha detto, si tagliano, quant'è il seppico, si tolgono, quindi non so poi che cosa fece. Vedete che cosa dicono? Dice come i malinconici possiamo, le vigile, il mestruo e l'apprivazione del sangue emorroidario. Il malinconico diventa anche ipocondriaco, una cattiva funzione epatica e la cattiva funzione epatica cosa porta? La funzione biliare deficiente porta alla flatulenza. E la flatulenza a sua volta cosa porta? Dice lui. Suo spirale nel cervello e porta una festifera aura. Ma non solo, ma la flatulenza porta aritmia. Tant'è vero che i medici di una volta dicevano alle persone anziane, flatulenti, quale ha detto, signora se voi dovete scorreggiare anche il pubblico fatelo, cioè per eliminare. e questi sono i rimedi. Se noi andiamo a vedere i rimedi, li sintetizzo eh, i rimedi sono su vari piani. Noi passiamo da rimedi che in qualche maniera agiscono sul fegato, sulle mestruazioni buccate, sull'attivazione del flusso emorroidario, qui vediamo Scilla, che è veronosissima, la gente moriva da accogliere, pensava che era cipolla, moriva subito. Questa è una liliacea, abbiamo anche l'iliub tigrinum, i quali agiscono proprio sull'apparaggio genitale femminile, ma chiaramente si danno in piccolissime dosi, anzi se si vede su internet dice assolutamente non preparare queste. E poi ci stava il chirurgo, il chirurgo che faceva con danti salassi per purificare il ferro di questa persona. Poi ci stava la duta eccetera. E io quello che ho scoperto, che molte prescrizioni di Della Porta, soprattutto per quanto riguarda minerali e prezzi pensiose, le troviamo in quell'epoca, ad esempio in Francesco Sanzovino, ho trovato proprio la pagina del libro che praticamente indicava nel morbo comiziale l'olio rosato. E poi anche nei secreti medicinali di Bailo Pietro da Torino, che era medico di Carlo II di Samoia, troviamo l'uso del chelidonio un pietra per problemi mentali. Quindi non è che Della Porta si fosse inventato qualcosa. Disse Della Porta nella prefazione dei suoi secreti medici, utilizzai soltanto ciò che avevo già provato. Quindi già ho una mentalità scientifica tra piccoli e infatti parla contro i pistassi dei bambini e poi dice no, non provate questo, non fatelo perché non lo so. E' chiaro? Quindi era anche attento. Termino questa relazione con quello che vi faccio leggere, vabbè le streghe, soltanto velocemente le streghe, lui rischiò moltissimo perché lui stava con un gruppo di medici che non credevano che le streghe fossero tali, fossero indemoniate e questo contro ciò che diceva la chiesa. Fu avvertito che lui poteva essere sotto in qualche maniera l'inchiesta dalla sacra inquisizione e quindi però portò avanti comunque l'idea, e lo dice, che le streghe erano delle malate e indicava anche, come il licanto fosse un malato, indicava anche come poterlo guarire. Vedete l'ultimo, l'ultima slide, questa è di Sidenham che è un medico famosissimo, un conferenziere inglese che dice la malattia non è altro che un tentativo da parte del corpo di librarsi della materia morfosa e richiama tutti alla visione ippocratica della malattia. Lui è famoso per la corea e per quanto riguarda la scarlattina, curava i cinque anni per i malati, non erano moltissimi, lui le curava i cinque anni per i trecenti. dal quotidiano sanità scopriamo questo. E' una cosa molto interessante la scorsa settimana. Che cosa dice? Che adesso per omologare un farmaco non solo bisogna provarlo sulla malattia, ma bisogna avere notizie del paziente su come il consenso umano, la visualizzazione e l'esperienza diretta del paziente può completare le valutazioni di efficacia e sicurezza. Quindi anche il paziente deve essere incluso per quanto riguarda l'omologazione del farmaco. Mi è capitato una persona che tra l'altro è un collega che ha preso un farmaco anti-arittimo, per due o tre mesi aveva febbricola, stanchezza, medico di base, non riusciva ad andare a fare visite, ha girato un po' da tutte le parti e poi un medico gli ha detto ha detto ma tu hai tutti questi sintomi? Guarda, questo è il farmaco anti-arittimo che sta pigliando, va copitando la febbre, ogni pubblico, toglielo tra 15 giorni e ti passerà tutto. Beh, quel farmaco per esempio, se in qualche maniera si farà questa indagine, come dice il quotidiano della sanità, quindi quel farmaco sicuramente avrà un grado di tolleranza minimo, non perché non guariva la malattia, ma perché in qualche maniera aggravava il paziente. E questo è quello che vi dicevo del quotidiano sanità, scusate, questa è la nuova frontiera di medicina olistica, il presidente Ricciardi parla finalmente che in futuro la sanità dovrà spendere i soldi per affiancare al malato questi malati di malattie degenerative che stanno crescendo in maniera esponenziale, quindi la vita si è allungata ma ha un grado di morbidità, di stato di sefferenza enorme e quindi lui parla di una medicina olistica integrata dove la persona umana venga affiancata e venga aiutata da varie figure sanitarie. E io, se mi consenti Gennaro, volevo un ricordo, pochi giorni fa è finita la nostra presidentessa, la dottoressa Alma Rodriguez che ha formato migliaia di medici in Italia al resto e che aveva scelto Napoli come sede per aprire l'istituto perché rappresentava il crocevia mondiale dei medici e pati e portò qui il professore Negro, Papati Antonio Negro, il professor Paschero e il professor Ortega per formare questa scuola. Grazie dell'attenzione e scusate da voi.